La situazione umanitaria a Gaza è ormai catastrofica. Lo denunciano cinque agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Alimentare Mondiale, secondo cui il danneggiamento di diversi ospedali e l'assenza di servizi igienici potrebbe presto portare alle stelle il numero dei morti per la popolazione devastata dalla guerra tra Hamas e Israele. L'ONU parla di un milione e mezzo di sfollati nella striscia. Resta limitato il sollievo apportato dal primo convoglio umanitario transitato per il valico di Rapa e proveniente dall'Egitto. Lungo la strada l'esercito israeliano ispeziona i camion in transito per verificare la presenza di armi. Grazie a tutti.